Presidente, approfitto per ringraziare anche gli uffici per il supporto tecnico che hanno dato alla composizione di questi emendamenti che sono molto tecnici, si inseriscono in un contesto normativo che ovviamente va rispettato. Quindi in questo caso le opere temporanee, la volontà politica è di snellire quanto più possibile queste procedure, quindi abbiamo previsto che determinate opere ben caratterizzate con l'emendamento precedente possano essere realizzate in tempi rapidi, quindi tramite appunto una CILA che non necessita di autorizzazione come appunto stabilisce già la normativa nazionale e quindi va soltanto comunicata. E anticipo il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.